Cari telespettatori ed eccoci passati alla sezione Racing Time e lo facciamo ancora una volta, è gradito ospite con Mario Peserico, ciao Mario. Buonasera, ciao. Amministratore delegato di Eber d'Italia ma ormai impegnato anche a tempo pieno nell'organizzazione di gare con vetture stupende, adesso andremo subito a parlarne e poi Paolo Artemi, Paolo è quasi un di più presentarti, ormai anche tu graditissimo ospite e spalla in queste puntate di Racing Time, Corriere della Sera Style. Esatto, grazie e grazie a tutti i telespettatori. Mario mi è venuta facile questa battuta perché proprio l'ultima volta che sei venuto a trovarci abbiamo parlato di una manifestazione, di una gara dove voi siete stati partner importanti, mi riferisco al terra di Canossa, nel frattempo siamo andati a Bassano, siamo saliti in quota per le mitiche sport a Bassano, un'altra gara che ormai è conosciuta da tutti e ha un grande ritorno mediatico e di grandi appassionati. Sì, con una presenza di auto di un livello altissimo, 90 partecipanti, le Dolomiti che incorniciano Bassano, Marostica, quindi queste perle del Vicentino, mi pare una dozzina di paesi partecipanti con in particolare, oltre agli italiani, tedeschi, inglesi, quindi in forze. Come dicevo, macchine bellissime, scenario bellissimo, tutte le condizioni climatiche perché abbiamo avuto bel tempo, ma abbiamo avuto anche la neve e quindi direi gara sfidante. Ecco, neve per questo sport e per più barchette perché già nel nome si evince la tipologia di questa manifestazione e appunto nelle DNA queste caratteristiche tecniche. Sì, una presenza di un livello di auto notevolissimo con mi pare 27 marchi di auto diverse, con Bentley che ve l'ha fatta da padrone, ma con Ferrari, Maserati, Alfa Romeo e quant'altro. Partecipanti da 12 nazioni, un percorso molto sfidante, molto sfidante, davvero molto bello. Paolo, possiamo dire che queste vetture hanno fatto buona parte della storia della specialità e anche se magari hanno delle linee a volte un po' particolari perché derivano da vetture diverse, sono state poi tagliate, sono rese ancora più leggere e più sportive, però sono veramente affascinanti. La Marchetta è un'automobile da corsa, quindi l'automobile da corsa unisce la leggerezza alla funzionalità, quindi ci sono tanti cavalli, poco peso, anche in macchine del 1924 e qui ce n'era qualcuna e chissà come se la sono cavata, dal mio punto di vista tranquillamente anche sul passaggio dello Stervio, là dove hanno trovato un pochettino di neve. È così perché poi hanno vinto nelle classi, hanno vinto le macchine più storiche, quindi evidentemente, come dici giustamente, se la cavano. Io ricordo sempre che Tazio Nuvolare, che è stato un grandissimo pilota, aveva anche l'intelligenza e la capacità di scegliere le gomme. Per cui anche negli anni venti, negli anni trenta, quando correva negli anni trenta Tazio Nuvolare, il segreto era la macchina, ma anche la scelta delle gomme. Oggi ci sono delle gomme veramente molto più performanti di allora, anche se poi lo stile è stato pensato per loro. Ma quello che mi interessa è Meguiar, che arriva dall'Inghilterra con le sue Bentley, con questo esercito, e che cosa fa questo personaggio incredibile? Al quale voi avete attribuito un regalo speciale, mi sembra, di aver letto. Insomma, se lo meritava, no? Perché intanto è un personaggio, ha portato delle auto incredibili, ha vinto, se lo meritava. Quante auto ha portato, Meguiar? Mi pare 5 o 6. Sì? È un bel investimento, quindi qui c'è tutta passione. Solo questo merita tanto di cappello. Senti, ma le cene alla sera come sono state? Raccontaci. Ma le cene sono delle necessità. In questo tipo di gare, così faticose, perché alla fine della giornata, quando passi tra l'altro dalla neve al sole, è una necessità mangiare, ma crolli un secondo dopo. Quindi secondo me è il bello di queste occasioni, che non c'è nessun tipo di mondanità, nessun tipo di snobismo, di nulla. È gente che magari non si conosce, si trova, chi per la prima volta, chi invece si conosce da anni, si ritrova con piacere, condivide quei momenti insieme, quei pochi momenti assieme, per il resto la passi in macchina, le giornate le passi in macchina. Ma sono davvero delle fratellanze che si perpetuano. L'equipaggio che ha vinto, però, è un equipaggio che tu conosci bene. Ma devo dire che più o meno ormai li conosco un po' tutti. C'era un signore 84 anni con nipote, 84 anni dagli Stati Uniti, dagli Stati Uniti, con nipote scocciatissimo e stufissimo, perché evidentemente ancora non ha preso il DNA del nonno, ma lui è arrivato dagli Stati Uniti con l'auto, è incredibile. Aspita, che belle storie. Avrei mostrato anche l'ultimo gioiello di casa Everard, e mi riferisco all'ultimo manovolari che abbiamo potuto vedere per la prima volta a Basilea, che vedo che è anche al posto. Ecco, cosa dicono i colleghi e cosa dicono gli appassionati di motore di questo nuovo gioiello? Per il momento direi che rintracciamo dei commenti solo sui blog, sui forum, perché sono loro che l'hanno visto, nei negozi non c'è ancora, l'abbiamo presentato a Basilea, l'abbiamo integralmente prenotato ai nostri negozianti, ai nostri punti vendita, e arriverà nei negozi da partire da settembre. È un solo tempo con una funzione dual time, quindi un pulsante a ore 10, quindi dalla parte opposta rispetto a quella dove normalmente sono i pulsanti cronografici, che regola la funzione dello scatto ora, scusate, quindi del secondo orario, quindi del GMT. E poi ha una riserva di carica. Di quante ore è la riserva di carica? E' la seconda versione di non crono che dedichiamo a nuvolare. Ecco, in quella sorta di prototipo che tu hai al polso, vedo anche un brazzale con delle impunture di colore di contrasto rosso. Sarà una caratteristica dell'orologio o c'è una gamma anche di cinturini e di quant'altro? No, ma se il cliente, al finale, vuole un cinturino nero, normale, impunturato, normale, non c'è difficoltà a farglielo avere. Qui, diciamo, il contrasto, o meglio, la nuanza è con le caratteristiche del quadrante. Il quadrante è nero con dei dettagli rossi, che sono un po' le caratteristiche degli orologi dedicati ai nuvolari, e abbiamo pensato a un cinturino nero con delle impunture rosse. In casa Eberar il tempo viene scandito appunto anche dalle manifestazioni. Adesso tutti in vacanza per qualche settimana e poi si riparte... Non esattamente. No, non esattamente. C'è ancora una manifestazione, un concorso di eleganza al Golf della Montecchia, nell'ultima decina di luglio, anzi forse il 18 di luglio. La ristorazione è curata dagli Alaimo, quindi i tristellati, sempre della zona di vicino Padova. Il ristorante del Golf ha ricevuto a sua volta una stella, quindi il catering è di sicuro livello. E ci dovrebbe essere una cinquantina di auto bellissime che sfileranno in questo concorso di eleganza. Allora, si inserisce questa manifestazione e poi ci si avvia verso il Gipi Nuvolari, che è un po' la punta di diamante di tutta l'attività di Eberar nel settore delle auto storiche, dove siete protagonisti. Anche quest'anno i numeri saranno numeri da record. Sembra di sì, sembra che ci sia una notevole crescita delle domande di iscrizione. Nuovamente saremo di sopra dei 300 equipaggi partecipanti. Il percorso cambia, cambia, perché rispetto agli ultimi anni che era Mantova-Rimini e poi il sabato Rimini, quindi Adriatico-Tirreno e Tirreno-Adriatico nello stesso giorno, per poi tornare a Mantova la domenica, sempre da Rimini. Quest'anno invece l'hanno chiamata così dei due mari, perché non solo come prima li vengono toccati, ma in effetti gli equipaggi si fermano il venerdì sera sul Tirreno e il sabato sull'Adriatico. Tu Paolo hai partecipato a un GP Nuvolari in passato? Perché piace tanto questa gara? Io trovo che il GP Nuvolari piace molto, intanto perché è una formula molto bilanciata. La scelta delle automobili è fatta con estrema correttezza. Tutti i pezzi che arrivano hanno veramente ogni bullone a posto per poter partecipare a una gara stoica. È una gara che è esplosa nel mondo. Ha anche un gusto di ospitalità che è molto interessante dal mio punto di vista. C'è un premio fantastico che è questo Eberar che viene offerto dalla casa che rappresenta qui con noi Mario Peserico, ma soprattutto ci sono veramente dei gusti incredibili e la gara è interessante, perché le prove sono... Poi Mario anche lui l'ha fatta parecchie volte, può darci un... Non confondiamo i maestri con gli amici, l'ho fatta in un paio di occasioni e direi di calare un velo pietuoso. Non è vero perché l'hai fatta con delle Jaguar di una bellezza incredibile, poi hai una squadra intiera che partecipa con su Eberar. Ma infatti quello è un orgoglio e quello ci dà dei piazzamenti, anzi, più delle volte vince il Classic Team Eberar, quindi assolutamente quello è un grande motivo di orgoglio per tutti noi. Mario un'ultimissima domanda e poi ci sarà l'Etna, poi ci andrà in Sicilia, una delle isole che mi dicevi prima molto amata. Ecco questa è una novità nella vostra presenza, che gara, che tipologia di gara è? I partecipanti sono coppie o comunque appunto coppie nel senso di coppie nella vita oppure di coppie nelle gare che si prendono di solito magari anche più della settimana per passare una vacanza in Italia. Quindi una settimana la fanno magari di auto e una settimana poi la fanno girando il paese. Tant'è vero che in questo caso gli organizzatori si occupano anche di affittare spesso le auto proprio perché vengono da lontanissimi, non so ci sono 7-8 equipaggi argentini, quindi le implicazioni sono diverse rispetto ad altre gare. Per noi utile anche per avere una presenza sul mercato del sud Italia e quindi c'è anche questa logica per dare un supporto di comunicazione anche ai nostri concessionari, quindi diciamo non nascondiamo anche evidentemente l'aspetto di comunicazione. Bene, sei un'altra attività estremamente interessante, ne daremo cronaca dell'evento e magari chissà, avremo anche a fare qualche immagine perché anche a noi la Sicilia in questa stagione piace molto. Grazie a Mario Peserico, aggiungo modesto nelle tue esperienze automobilistiche. Grazie a voi. Grazie ancora anche a Paolo. Grazie Andrea. Ci vediamo tra 7 giorni. Grazie. E grazie anche a voi telespettatori, si conclude qui la puntata di Save Drive, ci vediamo tra 7 giorni.